In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen, sia lodato Gesù Cristo, Maria, Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Parliamo dell'altare nel secondo millennio dell'era cristiana. Durante il Medioevo l'altare viene spostato verso la parete di fondo e allontanato quindi dalla navata per mettere in evidenza la sacralità della messa, l'unicità del ruolo del ministro e anche l'importanza dell'altare stesso come luogo del sacrificio. Questa nuova sistemazione si rivelò propizia per inserire un nuovo elemento, il dossale, chiamato anche retablo, parola spagnola che deriva dal latino retrotabula, cioè tavola che sta nel retro dell'altare. Opportunamente decorato il dossale ha il fine di edificare spiritualmente il sacerdote e i fedeli. Ecco un dossale del 1400 che si trova a Firenze, nella Badia Fiorentina, ed è autore Mino da Fiesone. Al centro la Madonna e ai lati due Santi. Questo politico è del 1400, politico significa che il dossale può essere suddiviso in diverse raffigurazioni, delimitate in questo caso dalle colonnine. È scolpito e quindi c'è la Madonna col bambino al centro e altri Santi. Si trova nella chiesa di San Frediano a Lucca. Questo politico, il legno dipinto, è di Simone Martini, 1300, attualmente a Boston in un museo. Di Giotto si trova nella Pinacoteca Comunale di Bologna, sempre 1300, al centro la Vergine, ai suoi lati degli Arcangeli e all'estremità due Santi. Questa è una pala d'altare, non è un politico perché la scena centrale non può essere suddivisa in scene minori. E questa è una tavola unica che rappresenta appunto la maestà, cioè Maria il bambino sul trono, circondati da Santi. È del 1300, Duccio da Boninsiena, Duomo di Siena. Quest'altare è del Rinascimento. Questa raffigurazione ci fa vedere che l'altare a mensa è stato ripreso nel Rinascimento italiano rendendo più sottile la mensa d'altare e utilizzando come supporti anche degli elementi eleganti come due anfore. Questo altare si trova nella chiesa del Santissima Annunziata a Firenze, è del 1500. Facciamo un passo indietro nel tempo, scusate, siamo a Padova, Basilica di Sant'Antonio, l'altare di Donatello. L'altare con Donatello si arricchisce di altri elementi scultori, in bronzo in questo caso. Ci sono delle formelle di bronzo sia nella parte antistante l'altare sia nel dossale e poi ci sono anche sette statue sopra all'altare. Siamo nel 1400 a Venezia, chiesa di San Lio. L'autore è Pietro Lombardo e ha disegnato e scolpito questo altare con la pala che rappresenta la pietà, Maria che tiene in braccio il figlio morto, e due santi. 1600 La datazione qui è errata, dovrebbe essere il XVII secolo, altare barocco, l'altare di San Luigi. Autore è Andrea Posto nella chiesa di Sant'Ignazio a Roma. La pala d'altare rappresenta San Luigi che viene accolto in cielo dagli angeli. Qui siamo in Baviera e abbiamo un altare Rococò del 1700. Il Rococò è un'evoluzione del barocco, ancora più ricca ed esuberante, diciamo così. Al centro c'è la statua di San Giorgio con il drago, avvolto in un'atmosfera di luce. E' molto scenografico questo altare. Notate le colonne, tortili e altre statue che lo circondano. Siamo nell'Ottocento, ecco, l'Ottocento riprende forme più sobrie e si ispira agli stili del passato. L'Ottocento non ha uno stile proprio, va a recuperare le cose migliori, ecco, del passato e le mette insieme. E si stabilizza su modelli tradizionali, ecco. Questo è l'autore di questo altare, Antonio Sarti, nella chiesa del Gesù a Roma, XIX secolo. Adesso facciamo un salto dal XIX secolo al XX, siamo a metà del 1900, in Francia, a Vance, in questo convento di suore domenicane, a Rimatis, il famoso pittore, disegnò questa cappella che non era altro che un rettangolo, la pianta rettangolare. L'altare è posto in un angolo, nell'angolo in fondo a destra, a 45 gradi, praticamente, in modo da guardare da una parte il coro delle suore e dall'altra la navata dei fedeli, praticamente nell'angolo destro, in fondo. Questo altare è già predisposto per la celebrazione verso il popolo, infatti i gradini si salgono da dietro e non sul davanti. Siamo nel 1951, quindi a più di dieci anni prima del Concilio Vaticano II, e la celebrazione verso il popolo era già presente, specialmente in certi ordini religiosi, tra cui appunto i dominicani, ma non solo, soprattutto i benedettini, i quali già dalla fine dell'Ottocento sperimentavano nuove soluzioni per la liturgia. Tutte queste realtà confluirono poi nella riforma di Paolo VI del 1969. Quest'altare, questa chiesa è completamente spoglia, come vedete l'unica particolarità sono le vetrate che gettano un po' di luce colorata sulle pareti che altrimenti sarebbero bianche come il reparto di un ospedale. E qui gli affreschi, e non sono affreschi, sono disegni a carboncino, sembrano quasi, raffigurano qui la Madonna col bambino, nuvole, la parola ave, e questo sarebbe la figura di San Domenico. Quindi qui la sedia del celebrante, un inginocchiatoio, e quanto mai spoglia e disadorna. Non abbiamo traccia del tabernacolo. Notate, siamo nel 1951. Questa invece è Notre-Dame du Hôte a Ronchamp in Francia del 1955. Questa chiesa la riconoscerete senz'altro, è molto famosa. E questo è l'interno, questo è l'altare. L'altare ha una predella sul davanti e l'altra dietro, in modo che ci sia la possibilità di celebrare sia da una parte che dall'altra, o verso il popolo, che abbiamo già visto in un video, vi ho illustrato quanto sia erroneo il discorso della celebrazione verso il popolo, non è mai esistita prima nella tradizione cattolica. E qui nel 1955 era già presente questa possibilità. Si vede che certi studiosi, tra virgolette, indirizzavano ormai i sacerdoti verso questa direzione. L'aspetto della chiesa all'interno è quella di una capannone, di un'officina praticamente. Non ci sono arredi, l'unico arredo è questa croce. Neanche al centro della parete di fondo non c'è simmetria, come potete notare. E non aggiungiamo altro. E siamo ancora prima del Concilio Vaticano II. Di quello che è successo dopo il Concilio Vaticano II, per quanto riguarda l'altare, non ve ne parlo, perché ormai è sotto i nostri occhi. Sia lodato Gesù Cristo, in nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen.